Sì, non ho dovuto studiare, va bene, non ho studiare, ma ho un lavoro, un lavoro, lo vuoi trovare? Immantenuta, mi trovo una bella femmina ricca, ci aveva due dette senza esagerazione di questa portata, wow! Avete visto che gli ha fatto pure un segno? Che segno gli ha fatto? Il segno della cosa, c'è un segno di qualcosa sotto ci sta. Aspetta, dimmi almeno come ti chiamo? Certo, io ti vedrei proprio bene con mio figlio. Giada, mi chiamo Giada. Lei mi alloggia sull'isola il pericoloso boss Raffaele Campieri e non si permura di avvisare le forze di noi. Tanto quello il reato lo fa lo stesso, che mi dà diretto oppure no. Ha capito? Buona ragazza, tu voglio... No, 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 no! Buona ragazza, tu voglio...